Tutti insieme hanno fatto paura! Abbiamo appena preso il protagonismo all'interno di un'azione sul diritto allo studio che volevamo fare simbolicamente vicino alla facoltà di ingegneria dove abbiamo messo uno striscione nel quale si ribadisce che comunque il diritto allo studio, sia quello per gli studenti medici che per le università, quindi DSU, è stato bloccato e soprattutto impedito anche dopo questa riforma. Non sappiamo come mai ma ci troviamo adesso lo striscione firmato di un sindacato con il quale non ci siamo messi d'accordo. Questa data è una data di mobilizzazione studentesca, eravamo d'accordo su niente sigle, non sappiamo perché abbiamo voluto mettere il cappello su un'azione che avevamo costruito e concordato.